Super big match di promozione tra Aurora, Cerro Boldese e Universal Solaro. La squadra di Cruciti sogna l'aggancio in vetta, ma il Solaro sta dimostrando con merito di essere là davanti. Giallorossi subito pericolosi da corner, pur non inquadrando lo specchio della porta. L'Aurora cerca invece sempre il suo bomber, Anthony Guarda, che anticipa Bizzi in uscita, ma manda alto il pallone di un nulla sopra la traversa. Il copione della partita sembra essere ben chiaro, Capitan Greco poi rischia la flittata su un passaggio all'indietro di testa al suo portiere, ma guarda, tira come nell'occasione precedente, il pallone va ancora una volta alto. Più Aurora che Solaro in avvio di gara, così arriva il gol. Lancia a ispirare la corsa di Belli, che rientra in area di rigore e viene toccato dal giovanissimo Giordano, classe 2005. L'arbitro indica il dischetto, nonostante le proteste giallorosse dagli undici metri si presenta proprio. Anthony Guarda, che non perdona, palla da una parte, Bizzi dall'altra e Aurora avanti, ma il Solaro è capolista del girone, non per caso e reagisce subito colpo di testa da parte di Davide Milazzo. Pasiani mette in corner per evitare possibili beffe, mentre da un successivo calcio di punizione di Baioni, colpo di testa stavolta di Mantellini, centrale parato da Pasiani. Ma il gol del pareggio è maturo e arriva al minuto 28. Giordano tiene vivo un bel pallone sulla corsia mancina, lo scarica Love e sul cross del numero 6 arriva la zampata, vincente di Mantellini, che trova così il gol dell'1-1 dopo la doppietta di settimana scorsa al Ceriano. Partita nuovamente in equilibrio ed esultanza giallorossa, Solaro galvanizzato anche in avvio di ripresa, Milazzo controlla e prova la conclusione al volo, palla a lato. Ma trovare il nuovo vantaggio ancora una volta l'Aurora, angolo dalla destra, colpo di testa di guarda che colpisce in pieno la traversa e il Solaro non riesce a liberare l'area di rigore, il pallone resta lì capitando ad Alberti che davvero opportunista, trova così il gol del 2-1, metà ripresa e Aurora avanti con la rete del suo numero 10 che esulta sotto la tribuna. Ma è partita apertissima, il Solaro prova a reagire ancora, cross di Bonasso dalla destra e ancora Mirazzo stavolta sul secondo palo, controllo e tiro. Palla alta ma bella l'idea del numero 10, l'Aurora però sembra essere più in fiducia, Agnesi a metà campo controlla il pallone e prova l'Euro-Gol ma la sfera finisce a lato di un nulla della porta difesa da Bizzi. Aurora che cerca il tris e la lunga riesce a trovarlo, ancora una volta Agnesi crea scompiglio nella retroguarria giallorossa e una volta entrato in area di rigore viene strattonato da un difensore. secondo calcio di rigore di giornata dal dischetto si presenta ancora una volta, Anthony guarda che non sbaglia, il bomber cambia angolo rispetto all'inizio partita e segna così il gol del 3-1 che sembra di fatto essere sentenza. Il Solaro però nel finale prova il tutto per tutto, Mirazzo tiene vivo il pallone sulla tre quarti, palla dentro per Bonasso, intervento in scivolata di Volpini per l'arbitro, ci sono gli estremi per il calcio di rigore che proprio Mirazzo trasforma ma quando ormai il minuto è il 90, il Solaro prova a velocizzare le operazioni di rimessa in gioco del pallone, c'è tempo per l'ultimo calcio di punizione sempre di Davide Mirazzo ma il risultato non cambia più, l'aurora batte il Solaro e lo lancia in vetta la classifica.